Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, le avventure del recinio, dell'episodio numero 7. La gara di volo. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Preoccupato che il suo re volesse partecipare alla gara senza usare le ali, gli disse Maestà, lei non può gareggiare senza volare. È una cosa molto sciocca. Cerca di riflettere. Lei è un cigno. Sei nato per volare. Tuttavia Swan, intenzionato a gareggiare, non ascoltò Paul. Perciò si diresse al tessoso al luogo della gara, dove ogni uccello rimase stupito nel vedere il recinio partecipare. Una femmina di Albatros, di nome Guglielma, incuriosita dalla presenza del suo re, gli disse Salve, maestà. Sono molto sorpresa che anche lei partecipa a questa gara sportiva. Cosa l'ha spinta a partecipare? Swan rispose Amica Albatros, la gara non poteva di certo iniziare senza l'incarnazione della bellezza. Non ti pare? Guglielma, confusa, non sapendo cosa intendesse Swan, gli disse «Incarnazione della bellezza? Non pensi di darti un po' troppe arie?» Swan, nonostante fosse infastidito dalle parole della giovane Albatros, preferì ignorarla, decidendo di concentrarsi sulla gara. Quando la gara ebbe inizio, Swan, il recinio, invece di spiccare il volo, si limitò a camminare, godendosi dei bellissimi paesaggi. Kevin, notando il recinio camminare, planò da lui e gli disse, credendo che fosse ferito «Swan, sua maestà, cosa le è successo? Perché non vola come gli altri uccelli?» Il cignio, sorridendo, rispose «Kevin, non serve volare per poter gareggiare. Io sono la creatura più sublime del mondo. Osserva la mia eleganza, inchinati al tuo re!» Kevin, meravigliato dalla superbia del recinio, gli disse «La tua mania di grandessa un giorno finirà per rovinarti. Coraggio, Swan, prova a volare, se davvero vuoi vincere la gara. Devi farlo, sei un uccello!» Detto questo, il falco Kevin si alzò in volo, sparendo dalla vista del recinio. Swan, dopo aver ascoltato con attenzione i consigli di... Kevin comprese che aveva ragione, quindi provò a volare, ma esso, purtroppo, non si ricordava più come si faceva. Ultimamente, esso aveva mangiato intensamente, ed era divenuto così grosso che aveva iniziato a smettere di alzarsi in volo. Dispiaciuto e pieno di umiliazione, ritornò al suo cannetto, impiangendosi di essersi ritirato dalla gara. «Questi sono gli uccelli che volano, e questo è il recinio triste!» Bene, vi ringrazio dall'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima! Ciao da Simone! Ciao!